Anche se il secondo tentativo è andato a segno, il piano delle alienazioni a tre mestieri etneo si porta dietro una scia di polemiche. Infatti il Movimento 5 Stelle con il proprio consigliere comunale Domenico Di Guardo continua a contestare la messa in vendita dell'area appartenente al plesso scolastico Settebello Nord a Canalicchio. Secondo Di Guardo l'alienazione di questo terreno comporterebbe uno scompenso delle superfici minime esterne prescritte per le scuole. Così come prevede il decreto ministeriale del 18 dicembre del 1975. Nonostante queste evidenze la maggioranza del consiglio comunale a sostegno del sindaco Santirando, scrive ancora Domenico Di Guardo, ha voluto approvare il piano delle alienazioni espropriando dal potenziale uso scolastico pubblico un terreno facente parte di una scuola esistente. Con la vendita del terreno, ribadisce ancora l'esponente 5 Stelle, il comune alienerà un'area che doveva invece essere utilizzata per realizzare attrezzature per lo svago e l'attività motoria dei bambini a compensazione della carenza strutturale in cui riversa la scuola Settebello Nord e Sud. Chi dovrebbe essere interessato, si chiede Di Guardo, ad acquistare un terreno adibito da attrezzature scolastiche? In realtà i 5 Stelle protestano ma di fatto il risultato politico lo hanno portato a casa. Infatti il sindaco Santirando e l'assessore Fabio Filippino hanno realizzato un atto di indirizzo con cui chiedono il ritiro del piano delle alienazioni del terreno della Settebello Nord. L'area è stata lasciata per il momento nel piano solo per ragioni tecniche, ma sarebbe venuta meno la volontà politica di vendere il bene che peraltro fa parte da anni del piano delle alienazioni.